buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video video particolare perché è in con il nuovo aggiornamento di youtube viene un test a b cioè sono dei test e fa google per verificare alcune cose per decidere su cosa fare un aggiornamento non ce l'hanno tutti questo aggiornamento infatti nel mio canale youtube non ce l'ho questo aggiornamento ce l'ho solo sul secondo canale youtube questo qua momento spam ragazzi vi volevo parlare di questo canale con cui sono in collaborazione per una settimana bt community off topic è un gruppo affiliato con un gruppo di supporto informatico che appunto come suggerisce il nome si occupa di supporto informatico per tutti i tipi di dispositivi dispositivi gratuitamente questa qua è il gruppo principale della community è il gruppo off topic qua si parla un po di tutto oltre di tecnologia è piena di gente simpatica ovviamente è un gruppo off topic news e supporto tecnico a tutti gli utenti e inoltre ogni lunedì tutti i messaggi saranno eliminati per tutelare ancora di più la privacy degli utenti se vi unirete a questo canale se supporto rete i miei video spero che vi troviate bene e riprendiamo con il video autocad iscrivetevi però l'ho quasi abbandonato vedete voi nella versione mobile di questo di questo aggiornamento sul più dove possiamo creare un video vi è anche carica un video breve in beta ci andrò a cliccare ed ecco qui ora vabbè mi farò vedere qua c'è capovolgi qua c'è aggiungi musica youtube music però su questo account non ce l'ho quindi mi compaiono musiche a caso infatti non ho preferiti quindi possiamo aggiungere musica possiamo aggiungere dalla galleria qua c'è un timer qua ci sono dei filtri scusatemi quadratura a vedete ci sono dei filtri vabbè relativamente poi non vi stupite cioè non è non è tik tok acqua la velocità qua è un timer prima che inizi ci sta vabbè qua è capovolgere la cam e vediamo come fa qua qua c'è lo zoom come instagram e tik tok non lo andrò a pubblicare qua posso riprendere oppure tagliare vedete dalla striscia in alto poi c'è a linea a ecco ora vediamo come è l'editor perché adesso è salvato questo qua il video che ho fatto poi posso aggiungere musica anche in fase di editing qua posso mettere vari tipi di testi c'è mettiamo iscriviti metti appennare puoi cambiare il colore pennarello macchina da scrivere classico sottile spesso pennarello va bene qua ricomincia pennarello capo e mettere l'etichetta trasparente semi trasparente e non se puoi scegliere anche il colore quale allineamento e a destra da la grandezza mazza quanti colori sono simili a quelli di chrome quando è di di screenshot su android vabbè la durata in cui compare il testo e scusate il trattore qua posso aggiungere altro testo però no non mi interessa figo qua altri filtri filtri di prima si possono aggiungere anche in fase di editing vediamo che mi fa mettendo avanti ecco qua posso mettere il titolo la descrizione no strano quando si pubblica un video normale su da telefono almeno la descrizione te lo fa fare anche i tag messa hanno i tag solo da youtube studio e vabbè qua si può programmare basta salvedesi o un'altra cosa che vi vorrei far vedere e quando si mette un video su youtube compare questo pulsante crea dove potete mettere come musica l'audio di quel video cliccando in alto potete selezionare pure la parte giusta cioè la parte in cui siete interessati dell'audio e nient'altro cambiamo qua da regola potete cambiare la musica e basta un'altra cosa di cui vi è già su desktop e su android sul tablet quando mettete alcuni video di alcuni personaggi famosi ad esempio a me non c'è quindi non so di famoso mi è venuto in mente più di pai quando voi andate su clip c'è anche per desktop ripeto ah vabbè qua c'è l'annuncio rifare appunto una clip come quelle di twitch del video dell'area in cui siamo interessati salvarla e condividerla condividi clip condividi clip ah ecco vedete inoltre la possiamo ritrovare in raccolta i tuoi clip che bella questa grafica tutta zig e zig usa fatemi sapere che ne pensate di questa novità me sinceramente mi sembra abbastanza è copiata molto da tick tock dai suoi competitor forse un po troppo però fatemi sapere che ne pensate di questo editor che sicuramente non è professionale ma per chi vuole cominciare youtube ci sta anzi è più che buono un'altra novità che è stata messa dopo questa qua è la seconda parte del video qua è stato aggiunto il tasto esplora che è appunto le vecchie tendenze vecchio pulsante tendenze perché è stato sostituito da questo qua che è tipo il pulsante dei reel su instagram dove ci sono solo tiktok e qua c'è la fotocamera e lo possiamo fare e ok si stanno assomigliando un po' tutti i social e arrivederci a presto a presto